Manglio Dovi e Johnny Dorelli le note acute non convincono i quattro giudici, Tale e quale Show 2017, puntata finale del torneo di Tale e quale Show, Manglio Dovi dopo aver vestito i panni di Renato Carosone questa sera dovrà proporre l'imitazione del celebre Johnny Dorelli, undicesimo protagonista della finale del torneo di Tale e quale Show 2017 che proclamerà il suo vincitore attraverso il televoto del pubblico a casa e Manglio Dovi che, per l'ultima volta sul noto palco di Rai 1, dovrà esibirsi nei panni di Johnny Dorelli con il grande successo l'immensità. Dovi è un abile imitatore e lo dimostra anche questa sera nei panni di Dorelli, conquistando gli applausi del pubblico in studio. La parola passa infine ai quattro giudici, per Panariello bravo seppur con qualche imprecisione vocale negli acuti, concorda Loretta Goggi con le parole di Panariello così come Enrico Montessano che lo ha trovato però uguale nelle note basse. Arrivano complimenti anche da Christian De Sica se è stato fantastico. Riuscirà a conquistare la prima posizione? La lotta è davvero molto complicata, Anna Montessano. La doppia gaff, svela il suo brano, mentre Bianca a TZI. Diretta Facebook ricca di gaff per Manglio Dovi, che nel corso del filmato, nelle rispondere alle domande delle sue fan, non solo ha svelato il mome del brano che porterà in scena questa sera, ma è riuscito anche a mettere in imbarazzo la povera Bianca a TZI, protagonista, insieme a lui, della video-intervista. Il concorrente, infatti, su richiesta di una sua follower, ha rivelato che questa sera tornerà in scena sulle note dell'immensità, perché ha ammesso devo lasciare Christian De Sica di stucco. Immediata la reazione di Silvia Mezzanotte e Bianca a TZI, pronte a porre un freno alle sue rivelazioni, ma Manglio Dovi, poco dopo, ne ha combinata un'altra delle sue, leggendo ad alta voce un quesito che una fan ha destinato a Bianca a TZI, come vi siete conosciuti con Max, Biaggi, NDR. La domanda, ha messo in imbarazzo la cantante, che ha cercato di dribblare abilmente la questione, senza nascondere, però, il suo disagio, Max Pezzali? Io devo andar via perché mi sa che Manlio ho bevuto. A questo link è possibile visualizzare la video-intervista sui social. Aggiornamento di Fabiola Iuliano. Nei panni di Johnny Dorelli l'ottimo Manlio Dovi questa sera è nuovamente protagonista su Rai 1 nell'ultima puntata del torneo di tale quale show presentato da Carlo Conti. Per il comico ed imitatore siciliano che nella scorsa settimana ha regalato al pubblico un suggestivo ricordo del celebre Renato Carosone, questa sera ci sarà da fare conti con l'imitazione di un altro grande personaggio del mondo dello spettacolo italiano come Johnny Dorelli. Un artista molto amato dal pubblico del quale, secondo le anticipazioni, Manlio Dovi dovrà andare ad imitare la celebre interpretazione del brano L'Immensità. Una canzone scritta da Don Bacchi assieme a detto Mariano e Mogolle che venne presentata dallo stesso Don Bacchi in coppia per l'appunto con Johnny Dorelli nel festival di Sanremo del 1967. Come spesso accaduto nella storia del festival con altri brani che hanno poi avuto un enorme successo, anche l'Immensità non ebbe grande fortuna ottenendo soltanto il nono posto finale. Nono di serata nella scorsa puntata di tale quale show, la seconda della fase del torneo 2017, Manlio Dovi ha dato vita ad un ricordo da brividi del maestro Renato Carosone sulle note di una delle sue canzoni più amate in tutto il mondo qual è Tu vuoi fallo americano. Una performance che è stata decisamente briosa ma che tuttavia non ha convinto in pieno la giuria che ne ha riscontrato delle imprecisioni, Enrico Montessano l'ha addirittura messa sul gradino più basso del podio concedendo ben 14 punti che sono andati a cozzare con i soli 7 punti di Loretta Goji maggiormente critica mentre Christian De Sica la premiata con 8 punti ed il quarto giudice di serata Massimo Ranieri con 9 punti per un totale di 38 a cui però non se ne sono aggiunti altri nella seconda fase di votazione consentendo così di chiudere la serata al nono posto. Clicca qui per rivedere Manlio Dovi nei panni di Renato Carosone.